Dottor Raveni, lei è indagato per aver rilasciato dei certificati senza aver inoculato i vaccini. Ci può spiegare come stanno le cose realmente? Io mi ritengo estraneo ai fatti. Innanzitutto non rilascio Green Pass, faccio i vaccini e certifico l'avvenuta vaccinazione. Quindi lei fa il vaccino e inserisce sul sistema della regione e ha inserito anche quello di Pippo Franco? Certo sì, è il mio paziente. E' un suo paziente. In quella foto è lei insieme a Pippo Franco? Sì, sì. Lei però è amico credo, o semplicemente un collega, il professor Antonio De Luca. Certo, è un amico, è un collega e è un paziente. Lui e tutta la sua famiglia sono pazienti miei. Gli ha fatto il vaccino a De Luca? Sì, sì.